Hollywood TV Hollywood Television, eccoci qua, la donna del momento ce l'abbiamo qui al Brumà grazie al Dama Group che paura Cristina Buccino, ciao, direttamente dall'isola dei famosi direttamente, proprio dall'isola sono arrivata a nuoto direttamente qui per voi e vi mando un bacio fantastico, ma cara Cristina il cocktail della serata perfetta mi dai tre ingredienti, quelli giusti? vai, che lo so che te ci puoi stupire io so ragazzi, io sono una puritana, non bevo per chi è che pensa il contrario è proprio così noi non ci crediamo vita sana, palè, è la verità, è la verità noi non ci crediamo giuro, giuro strappiamo qualche indiscrizione alla Cristina no, te lo giuro, non lo so, io non sono, come si dice, sono astemia beh, cara Cristina, per fare il tuo ingresso c'è tanta gente pronta fantastico, adoro a fare foto con te, adoro ti piace, gente, pubblico sono felicissima di essere qui stasera anzi, vi ringrazio per avermi ospitata fantastico e allora salutiamo il pubblico fantastico, sei tu yeah salutiamo il pubblico di Hollywood Television ragazzi, vi mando un bacio ci vediamo presto le donne più belle signori ce li abbiamo noi la cribuccino meraviglia ciao